Negli ospedali e nei servizi sanitari in cui c'è bisogno essenziale del medico, la situazione è drammatica. La carenza d'organico sta mettendo a dura prova il sistema. Una spia eloquente è stata la chiusura di notte della sala operatoria del Maggiore di Modica. Con la morte di Piero Iemmolo e l'infortunio di un collega, i chirurghi disponibili sono passati da 5 a 3, numero insufficiente per garantire l'apertura H24. L'azienda sanitaria sta cercando di risolvere il problema acquisendo la disponibilità di due unità da Ragusa e Vittoria. Ma la situazione è grave e la rissa avvenuta nel pronto soccorso di Modica, complice il clima di tensione dovuto da una parte ai turni stressanti degli operatori e dall'altra alle lunghe attese dell'utenza, ne è ulteriore conferma. Abbiamo disposto di spostare due medici, uno da Ragusa e uno da Vittoria. Non risolviamo il problema. Abbiamo anche autorizzato un ulteriore medico, seppur in extramenia, ma a fare le ore aggiuntive. Non è proprio in regola, ma abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Non risolviamo il problema delle emergenze in toto, ma comunque è chiaro, questo bisogna dirlo con forza, che non c'è nessun pericolo per la sicurezza dei pazienti. Anche ieri sera c'è stato un politrauma, è stato trattato prevalentemente da ortopedici, ma non è successo nulla. Per quanto riguarda invece il problema più in generale, c'è una carenza di medici che non riguarda Ragusa, riguarda tutta l'Italia, basta aprire un giornale qualsiasi del Veneto, dell'Emilia o del Piemonte. E ovviamente anche la Sicilia e anche Ragusa.